ciao a tutti amici di Occello Sguardo benvenuti in questo nuovo video quanto è importante la sicurezza delle nostre case a volte abbiamo necessità quando siamo fuori di dover guardare quello che sta succedendo in quel momento soprattutto se lasciamo cani e gatti se abbiamo comunque siamo più tranquilli dover guardare anche se stiamo lontani da uno schermo in questo caso dal nostro smartphone o un tablet o addirittura se siamo addirittura partiti da un pc in questo video vi racconterò di una telecamera xiaomi che è veramente bellissima dopo la sigla e sì amici di Occello Sguardo come ho detto già all'inizio di questo video oggi vi parlo di di una telecamera xiaomi ma prima di iniziare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanellina perché così ogni volta che si dice un nuovo video voi sarete sempre avvisati e aggiornati ha detto detto questo iniziamo sì oggi vi parlo di una telecamera xiaomi che non costa poco costa caruccia ma io oggi o ve ne voglio parlare non molto cara siamo sui 50 euro ma parliamo di una telecamera che permette di guardare a distanza wifi soprattutto anche infrarossi quindi ve ne parlo in questo video mentre io parlerò e ci saranno delle immagini che scorrono questa telecamera poi scriverò il modello preciso comunque una telecamera di xiaomi permette appunto di collegarsi tramite l'applicazione del proprio cellulare e questa telecamera fa il suo dovere fa quello la sicurezza perché la sicurezza è al primo posto quindi questa telecamera permette di guardare a distanza di dove stiamo stiamo con qualsiasi dispositivo che può essere un tablet un pc può essere un iphone un android comunque uno smartphone in generale sono imbrogliato e che ci permette di guardare cosa sta succedendo se sera e non c'è luce e lui questa telecamera guarda in infrarossi se stiamo se siamo fuori del giorno dunque la visione in quali in alta qualità e soprattutto e a 360 gradi gira si è snodata quindi si chiaramente si gira da una parte all'altra e veramente la state vedendo qui mentre io sto parlando perché è una fidata pazzesca questa telecamera ho avuto modo di capirla di studiarla se l'è comprata un mio caro amico possiamo dire quasi fratello che mi ha permesso di fare questo video che lo ringrazio tanto di recensire questa telecamera e questa telecamera che oltretutto ripeto la trovate su amazon ma trovate a media world il prezzo non varia di poco quindi io vi consiglio se ritrovate a media world e volete l'acquisto vi consiglio andare su xiaomi anche se devo dire la verità ce ne sono anche di più economiche ma ognuno fa la sua scelta però questa telecamera fa il caso di tutti perché la sicurezza è al primo posto e ma non solo per i latri ma anche in generale se lasciamo un cani gatti come ho detto dall'inizio comunque se magari che so qualche cosa che non va o qualsiasi cosa può succedere con gli animali a casa cade qualcosa si rompe quindi avere il pieno controllo di dove siamo siamo a guardare cosa succede nelle nostre case quindi io vi consiglio vivamente xiaomi questa telecamera che è veramente è meravigliosa ripeto il modello sarà scritto per tutta la durata o meglio quasi per tutta la durata del video perché io non la ricordo precisa che un nome strano quindi xiaomi quindi non voglio sbagliare però ve lo scriverò comunque per sicurezza quindi spero che questo video vi sia stato utile perché la sicurezza ripeto è al primo posto quindi ciao a tutti da oltre lo sguardo